Riccardo Marcuzzo. Ricchi di Amici racconta di quella volta in cui Maria De Filippi si è arrabbiata con lui Da quando Ricchi è uscito da Amici per lui si sono spalancate le porte del successo Ragazze e ragazzine di tutte le età lo seguono appassionate in giro per l'Italia, ed oggi la loro dedizione continua a portare Riccardo Marcuzzo in cima alle classifiche dei singoli più venduti Il cantante di Amici di Essere Fortunato lo sa bene ma fama e popolarità non sono capitati a lui per caso Come spiega Ricchi in un'intervista rilasciata a Vanity Fart, infatti, il suo percorso è stato ben studiato fin dall'inizio Per questo motivo, ha raccontato lui, anche quando era un semplice allievo ad Amici alla produzione del programma, ha imposto le sue regole Una presa di posizione questa che ai tempi pare abbia fatto arrabbiare molto Maria De Filippi la quale, tuttavia, adesso a Riccardo Marcuzzo ha riconosciuto i suoi meriti Riccardo Marcuzzo, parla Ricchi. Io Amici l'ho usato, Maria De Filippi? Si è arrabbiata Ad Amici mi accusavano di saper fare solo canzoni da ballare, ma la verità è che io Amici l'ho usato esordisce dicendo Ricchi quando gli viene chiesto di parlare della sua esperienza nel talent show di Canale 5 Sapevo di uscire dal lì in primavera, quindi volevo piazzare un singolo estivo, non volevo giocarmi la ballade. D'estate la gente vuole divertirsi, ha poi spiegato il cantante a Maria De Filippi l'ho detto. I pezzi sono questi, non puoi decidere niente La reazione della conduttrice? Si è arrabbiata, ha spiegato Riccardo Marcuzzo, ma io avevo una direzione chiara in mente e infatti ho vinto tutto. Polaroid è stata un grande successo E poi così alla fine anche Maria De Filippi mi ha dato ragioni. . Ricchi di Amici. L'amore con Sara, e il rapporto con le fami Oggi Riccardo Marcuzzo di dovere molto alle sue fami è. Consapevole, sono pazzesche. Ai firma copie sono scatenatissima ha raccontato lui a Vanity Fair ce ne sono tante innamorate Ragazzine così innamorate di Ricchi da prendere addirittura di mirare donne con cui spesso lui ha a che fare La modella con cui ho fatto il primo video l'hanno massacrata. Ricchi è mio, vestiti, 13.000 commenti di questo genere Adesso prendono di mira anche Sara, la sua fidanzata, NDR, ma non per cattiveria . 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 Grazie a tutti.